Perché hai gettato su tebe un raggio così funesto? Già da quando il primo della nostra stirpe, Cadmo, giunse su questa terra della lontana Fenicia! Perché? Qui lui prese sposa Armonia e fece nascere Polidoro e poi Polidoro fece nascere l'abdaco e l'abdaco l'aio. L'aio che prese sposa me, giocasta di Meneceo. L'aio che volendo un figlio maschio chiese il risponso di Apollo. No, re di Tebe, gli rispose il Dio. No, non seminare il solco che genera figli, non sfidare il volere degli dèi. Se lo farai, tuo figlio ti ucciderà e la tua stirpe per il destino di sangue. Ma lui amava il piacere dell'amico del vino e lo stesso volle seminare un figlio dentro di me. Ma poi, appena nato, lo abbandonò sulla nostra montagna il Citerone. Perché gli dèi, e non lui, gli dessero la morte nel modo che volevano e non fidandosi neanche degli dèi.